Paura per Albano Carrisi I attacchi cardiaci nel giro di poche ore hanno convinto il cantante di Cellino San Marco a farsi portare in ospedale nel tardo pomeriggio di venerdì 9 dicembre dove lo hanno sottoposto a un intervento perfettamente riuscito. Ora sto bene, ha raccontato al settimanale, all'alba di sabato. Nella notte mi hanno operato. Tre ore di intervento, in semisedazione. Sentivo tutto quello che dicevano e mi sono morso la lingua. Mi veniva da fare battute ma poi ho pensato fosse meglio non distrarli. Aria affaticata ma soddisfatta di chi ne ha passata un'altra e se la sta lasciando alle spalle. Se va bene, in un paio di giorni sono fuori. Anche perché ho tante di quelle cose da fare. La più importante, ora, è tenere data questa orta che ha scoperto essere capricciosa, ma tanto è inutile, lassù non mi vogliono. Resto qua giù, ha commentato con ironia.